Sanni, sei sicura che il nuovo alieno per cui tra l'altro mi hai fatto venire di corsa, infatti sono cambiato a metà, sia qui? Certo, il mio rilevatore non mente mai. Boh, sarà, certo che un alieno in fattoria mi pare un po' strano, eh. E dove pensavo di trovarlo? Nell'area 51? Guarda che il governo ci nasconde tutto sotto il naso. Oddio, ci mancava la complottista. Comunque, qui c'è solo un tizio pompato con gli occhiali. Il rilevatore sembra impazzito. Beh, sicuramente non è questo qui, sembra più Clark Kent. Oddio, ma è Clark Kent? Dove mi trovo? Non ricordo niente. Mi aiuta a scoprire cosa è successo? Ok, dobbiamo aiutarlo? Esatto, accetto l'obiettivo e andiamo. Va bene, allora cerco di eliminare gli alieni. Comunque ragazzi, arriviamo a 10k like per un nuovo video di Fortnite. E adesso andiamo a fare gli obiettivi per Superman. No, dai, ma perché? Lo so, sei preoccupata, ma tranquilla, ci penso io. Andiamo in un luogo di invasione. Ma... Ti ho già detto di non preoccuparti, so cosa fare. Prima di tutto buttiamo giù la navicella. Cosa? Esatto, e poi facciamo fuori l'alieno. Sì, hai visto? Non c'era niente di cui preoccuparsi. Sei un mostro. Cosa e perché? Sono alieni, ma hanno dei sentimenti. Non esistono ste cose in Fortnite. Invece sì, e io non ce la faccio a fare certe cose, a esseri superiori. Ma ci voleva far fuori. Non è vero, loro ci stavano aprendo la loro cultura. Parandoci addosso? Ci stavano mostrando le loro armi. Beh, allora la prossima volta gli ricambierò il favore e torniamo a parlare con l'occhialuto, va? Sì, ma non lo aiuterò più. I miei ricordi sono stati rubati sull'astronave madre di quegli alieni. Potresti andare a dare un'occhiata? Sì, sì, ti prego. È sempre stato il mio sogno essere rapito agli extraterrestri. Ma prima non avevi detto... So cosa ho detto. Adesso muoviti e portami dove vengono prelevati gli umani. Sei impazzita? Guarda che so che fanno degli esperimenti. Oh, sì, speriamo. Oh, questo è completamente pazza. Vabbè, andiamo. Ecco, finalmente raggio 30. Mi porto a sé. Perfetto, l'ha rimorchiata. Oh, effettivamente si potrebbe usare con le ragazze. No, aspetta. Quello si chiama rapimento ed è un reato. Lasciamo stare. Che spettacolo, sono in una cella di detenzione. Non pensavo di poter sentire spettacolo e cella di detenzione nella stessa frase. Incredibile. Oh, adesso dove siamo? Ah, sì, sì, mi ricordo. Adesso devi prendere quelle spere oro per completare l'esperimento. Tra l'altro vorrei capire che senso abbia un esperimento con me. Beh, se i miei sovrani lo vogliono, chi sono io per contraddirmi? Prendiamo subito la prima. Partita bomba. Ora la seconda. E via. E anche la terza. Complimenti, non avrei mai immaginato che riuscissi a prendere addirittura tre. Oh, ecco la quarta. Cosa? Ed ecco che i miei padroni mi hanno ricompensato. In un certo senso sì, prendi tutto quello che riesci. Oddio, ma quanto bello di Dio agli è, sono emozionatissima. Beh, a me sembrano più armi giocattolo, amore. Grazie adorati invasori, I love you. Ha detto davvero adorati invasori? Vabbè, perlomeno ha completato l'obiettivo. Torniamo dal finto giornalista, va? Grazie, forse comincio a ricordare. Adesso potreste andare a visitare dei luoghi qui in giro. Voglio capire dove è successo il tutto. Ecco, ti pareva, ci metteremo una vita, ma ci vorrebbe qualcosa di veloce che magari vola, tipo... Un'astronave? Oh sì sì, perfetto, sei un genio. Per cosa? Hai trovato il mezzo perfetto. Veramente, volevo solo provarla, yuhu. Dovevo capirlo. Guarda che roba, è bellissimo. Si sta divertendo come una bimba alle giostre e intanto però ha trovato anche un luogo. Sì, vero benissimo, guarda come sono piccoli quei vermi di umani. Ma quando lo capirà che è umana anche lei? Comunque perfetto secondo luogo. Guardali lì con il loro palazzo e il loro insulso capitalismo massonico. Mancavano solo le sci e chimiche ed eravamo a posto. Ahah, adesso ci penso io a voi umani. Oh no, ho volato un attimo i comandi, elettateli in una base oi. Prendete questo, distruggiamogli umani. So che alcune persone a volte te lo fanno pensare, ma non esagerare, dai. Bene, primo eliminato. Povera guardia oi, era quasi in pensione. A proposito di pensione di vecchi, guardali c'è Rick Sanchez, il peggiore di tutti. Io non lo provocherei. Prendi questo. Oh no, ci sta portando giù. Oh no. Ecco, lo sapevo e ora finirei il lavoro. Ma figurati, guarda che io... Aia! Ecco, infatti, come volevassi dimostrare... Grazie del vostro aiuto, ora mi ricordo che sono Clark Kent. Ma è come se mi mancasse qualcosa. Potresti chiedere ai miei amici se vi stanno a dire qualcosa di più? Amici? Hai degli amici qui? Sì, vi lascio la loro posizione sulla mappa. Ok, pensa te. Il primo è Amoli Molesti, andiamo a vedere. Penso sia quello lì. Cosa? Batman Zero Corazzato? Sì, a quanto pare ci propone due sfide. Esatto, sconfiggere un alieno o prendere una navicella. E ovviamente... Facciamo fuori gli alieni, sì! Ma no! Dai, su, basta con sto alien love. Ma non è per quello, guarda! Ah, c'era una navicella dietro di noi. Fantastico. Vabbè, vorrà dire che le useremo per raggiungere gli extra portreneschi. Via! No, no, ti prego, non fare come prima. E invece sì, buttiamo giù la nave. No, lascialo stare, ti prego. Mi dispiace, è l'obiettivo. Oh, povero, l'hai fatto fuori. Magari voleva solo giocare con noi. Sì, certo, come ti uccido l'umano. Dai, forza, andiamo a fare sta primiante dall'altro amico, va. Mannaggia, è arrivata la tempesta, umano. Ancora? Sei umano anche tu e poi prendiamo un incarico e torniamo subito in safe. Dice che visto che Superman sarà veloce... L'obiettivo è di andare a 99 di velocità con un veicolo. Forza, torniamo in safe. Aia! Ops, forse neanche Superman ci sarebbe riuscito sto giro. Mannaggia a te che mi hai messo in mezzo a questa roba. Devi essere un servo dei poteri forti. L'unico potere forte che conosco è mia mamma, in realtà. E adesso come vorresti fare per arrivare a 99 di velocità? Beh, basta il mezzo giusto e so come trovarlo. Questa? Esatto, una vera Ferrari. Bella, anche se sarà di qualche schifoso potente. No, no, non è di nessuno, è a disposizione di tutti. Ah, bene, allora acceleriamo. Non basta, vai con il turbo. Oh, wow, l'abbiamo anche superati. Certo, peccato che adesso ho finito la benzina. Oh, guardali che carino, un parassita allievo sulla gallina. No, 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 stai lontano, prendi questo schifoso parassita. Ah, sei finito nel pianeta sbagliato. Non ci posso credere. Non c'è bisogno che mi ringrazi, tranquilla. Sei un mostro, quello era un parassita indifeso. Parassita indifeso? Sì, e io non voglio più giocare con te. Ma dai, non fare così, io adoro gli alieni. A parte quando mi fanno fuori malissimo. Dimostramelo allora. Staresti meglio se ti sostituissi con un alieno e giocassi con lui? Sì, dai, penso di sì. Perfetto. Allora ne ho uno in mente. Chi sono io? Chi sei tu? Iniziamo bene. No, aspetta, adesso che hai completato gli obiettivi mi ricordo, sono Clark Kent. Esatto, sei super... Forte. Sì, certo, sei forte, ma sei anche super... Ma... Oh sì, Super Mario, it's me! No, 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 man! Ah, giusto, 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 sono Superman. Ma a voler perdita di memoria deve avergli creato anche di danni al cervello. Però devo recuperare il costume e reimparare a volare. Ecco, lo sapevo, mi hai dato un fake, man. No, tranquillo, sono solo un po' arrugginito. Facciamo così, fammi volare in mezzo a quegli anelli. Sono sicuro che dopo imparerò. Come diceva mamma Kent, non stai davvero volando finché non ti alzi da terra. Non ci ho capito molto, ma va bene, andiamo via! Perfetto, mi raccomando, prendili tutti, eh! Certo, Cal, tranquillo. No, guarda che, Clark, adesso me lo ricordo. Sì, è il tuo nome da terrestre, ma tecnicamente il tuo vero nome da kriptoniano è Cal, Cal-el. Cosa? Ma allora, come mi chiamo? Chi sono? Cosa ci faccio qui? Chi sei tu? Oddio, gli sei svitato di nuovo il cervello. Va benissimo, Clark. Fai finta che non ti abbia detto niente, ok? Bene, abbiamo finito, perfetto. Oh no! Cosa? È arrivato l'ex-lutor? Peggio, ne ho saltato uno. Oh dai, mi ero raccomandato. Eh, lo so, sorry. Va bene, dai, esce e riproviamo. Tanto ne manca solo uno. Al centesima tentativa. Facevo prima tornare su Krypton, sai? Scusami, hai ragione, adesso ce la faccio sicuro, guarda un po'. Dai, forza, e oddio, finalmente, grazie, Giorello. Ottimo, Clark, ti sta tornando la memoria, hai parlato pure di tuo padre kriptoniano. Ci mancherebbe, dopo tutto questo tempo. Beh, in effetti penso che avresti fatto amicizia anche con Batman. Non esageriamo, comunque ora mi manca solo una cosa. I tuoi poteri super mega galattici invincibili? No, mi dispiace. Eh, ci ha sperato. Quelli li ho già. Cosa? Wow, allora usiamoli. No, aspetta, prima manca il costume. Ah, esatto, dai, mettitelo. Ma così, davanti a tutti? Dai, ho capito, se vuoi mi giro. No, no, mi invidi tutta la mappa e poi da buon nerd dovresti sapere dove mi cambio io. Ah, giusto, nelle cabine telefoniche. Anche se adesso non ce ne sono più. Sì, qui ancora qualcosina è rimasto, eccone una. Perfetto, ora sì, sono tornato ragazzi. Meno male, ora con i suoi poteri sarà uno scherzo vincere. A proposito, ci ho ripensato. Cosa? In che senso? Non userò i miei poteri, è troppo pericoloso. Sì, effettivamente potresti aver ragione. Da allora imbracciamo le armi e andiamo. Va bene, andiamo. Perfetto, adesso spara quello lì. Cosa? No, non posso. Ma come non puoi? Sono un eroe, non potrei mai ferire un civile. Ma che civili? Che questi sono più armati dell'esercito. No, no, non voglio, scappa via. Mamma mia, sto facendo i 100 metri più veloci di Jacobs e non stai neanche usando i poteri. Perfetto, vedi, si riesce tranquillamente ad andare avanti. Oh no, attento lì. Oh no. Riproviamo, magari si mette anche un po' a posto con la testa. Forza, ce la possiamo fare. Ascolta, Gandhi, io capisco la non violenza eccetera, ma questo è Fortnite, non Barbie e le 12 principesse. Come fai a conoscerlo? Questo è un altro discorso, comunque penso di essere stato chiaro. Chiarissimo. Allora sparerai? No, mi dispiace, non posso farlo, dovremmo trovare un'altra soluzione. Fammi pensare, mi servirebbe quell'arma. Eccola lì. E questo cos'è? È un dispositivo che ti trasformerà in uno degli oggetti disponibili. Bello, almeno i nemici non mi vedranno e dovrò combatterli. Esattamente. Ok, allora mi trasformerò in questo. Cosa? Ti sei trasformato in un cartonato di una mucca? Esatto, insospettabile. Lo dici tu, fa un po' strano trovarlo in mezzo così dal nulla. Ah, forse però hai ragione. Allora mi sposto un attimo e provo con questo qui. Uno schiaccianoci? Certo, questo va bene. Ma è una decorazione natalizia e anche se si è visti a poco siamo comunque in estate. Tranquillo, non se ne accorgerà nessuno. Oh mamma, effettivamente siamo quasi in top 5, ma com'è possibile sta cosa? In questa partita non devono essere molto svegli. Bene, bene, ne mancherò sempre meno. Forse dovrei cambiare però. Sì, è un rischio, ma io per sicurezza farei qualcosa di più con solo l'ambiente circostante. Bravo, perfetto, mi sembra un'ottima idea. Grazie mille, non che ci volesse molto. Bene, siamo in uno contro uno. Perfetto, incredibile. Qual è il piano? Ehm, a dirti la verità non pensavo di arrivare fino qui, quindi un piano non ce l'ho. Ehm, dovrei sparare per forza. No, mi dispiace, non eliminerò gente innocente. Mette un secondo, ma guarda che sei in un videogioco. Potete dire ve lo subito. Addosso! Oh no, mi sa che è comunque troppo tardi. Oio! Ah, sto Superman dei poveri. Uff. E meno male che non c'era in giro della criptonite. Sennò mi diventava scarso, man. Beh, ragazzi, questo era Fortnite X Superman. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like e mi raccomando condividete il video e iscrivetevi al canale. E inoltre, anche se mi sono vestito così... E inoltre, se vorreste un Apollo tipo questa qua bellissima che ho io, andate qua sotto in descrizione, vi lascio il link. Ultimamente mi state chiedendo in tantissimi dove trovo i vestiti. Andate qua sotto che trovate il link. Bene, il video di oggi finisce qui e noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video. E... Bella! Aspettate, ragazzi. Prima di andare via, Bano voleva salutare queste persone che sono state così gentili da fare una donazione. Ma ovviamente se ne è dimenticato e ci devo pensare io. Ciao a XXProGamer. Ciao a Kiyoki che ha fatto tantissime donazioni. Complimenti e grazie davvero. E un saluto a Fra Light, grandissimo. Bene ragazzi, adesso il video è veramente finito. Ci vediamo, o meglio, vedrete Vano anche domenica. Mi dispiace, sì, pure a Ferragosto. Ciao!